Ancora ben ritrovati per l'edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia in prima pagina, un servizio che arriva proprio dalla regione dove la Giunta ha avviato una rete per affrontare le malattie neuromuscolari. Ascoltiamo l'intervista all'assessore Telesca. Assessore Telesca, oggi la Giunta ha deliberato sull'organizzazione della rete delle malattie neuromuscolari e in particolare della SLA. Sì, finalmente siamo arrivati a questa delibera che sancisce un'importante organizzazione, la rete per tutte le malattie neuromuscolari, all'interno del quale c'è anche la SLA, ma in realtà riguardano come diagnosi accertata oggi 785 persone in regione, solo quelle note e conosciute. È una cosa sulla quale abbiamo lavorato molto insieme alle associazioni e adesso possiamo dire di avere veramente una rete organizzata. Siamo partiti dal recepimento di quello che era stato fatto nell'accordo Stato-Regioni, ma da quello poi abbiamo organizzato una vera e propria rete che vede coinvolta tutta la regione, un centro hub, un centro di coordinamento. In ogni azienda si prevede un gruppo interprofessionale che si prenda carico delle persone che dovessero arrivare in ospedale, nei distretti, negli ambulatori di medici di medicina generale con queste patologie, che sono patologie che colpiscono non solo la persona, ma anche tutta la famiglia e quindi c'è bisogno veramente di una rete organizzata per una vera presa in carico multiprofessionale. Percorsi dedicati, per esempio in pronto soccorso, formazione del personale, dei medici, ma anche dei medici di medicina generale, degli infermieri, dei fisioterapisti dedicati a questo tipo di patologie che richiedono una conoscenza profonda per poter essere affrontate in modo adeguato. Ringrazio ancora le associazioni che hanno collaborato a questo documento, che per noi sono un valore importante, perché ci hanno aiutato anche a fare le cose che veramente vanno nella direzione di dare una risposta alle famiglie. Ole Oressin Capsicum, il dispositivo meglio noto come spray al peperoncino, in dotazione in friuli agli agenti della squadra volante e dei commissariati della polizia, dal 16 febbraio, è stato utilizzato per la prima volta nella nostra provincia nelle prime ore di giovedì notte per fronteggiare un'azione violenta. Il tutto è accaduto in via dei Torriani verso le ore 3.30, quando una pattuglia, allertata da alcuni testimoni, è intervenuta per sedare una lite in corso. Era infatti in corso una baruffa fra due ragazzi, ma gli agenti, intervenuti per dividere i protagonisti, si sono visti aggredire verbalmente e fisicamente da uno di questi, un cuoco 24enne di Mantua, residente a Maiano, che ha provato a colpire gli agenti anche con un pugno al volto fortunatamente schivato. Come da procedura, una volta che non sono andati a buon fine i tentativi di comunicazione o di mediazione verbale, si è optato per l'utilizzo del nuovo strumento altamente irritante. Poco dopo è stato così tratto in arresto il giovane, finito agli arresti domiciliari con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni. E andiamo adesso a Manzano, parliamo di cronaca, ladri in cabina Enel vogliono rubare il rame e lasciano per questo al buio il paese. Vediamo il servizio. Tentano di rubare i cavi di rame da una cabina dell'Enel e mandano in tilt il sistema, ma causando un blank out a Manzano. È accaduto in una cabina dell'Enel e distribuzione che rifornisce di corrette elettrica la zona popolosa del paese di Manzano. I ladri hanno raggiunto l'impianto non visti e si sono messi ad armeggiare. Nel tentativo di rubare i cavi di rame hanno danneggiato il sistema e probabilmente hanno poi anche rischiato di essere colpiti da una scarica elettrica. Alla fine il colpo non è riuscito e i cavi di rame sono rimasti nei loro alloggiamenti, ma tutta l'area è rimasta senza corrente per circa mezz'ora. Gli utenti hanno contattato il numero di servizi guasti dell'Enel ed è stato eseguito subito un controllo. Si è scoperto così l'accaduto. A casare quel blank out non un problema tecnico, ma l'azione dei ladri. La fornitura della corrente è stata ripristinata dopo poco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, dei ladri però purtroppo nessuna traccia. Una notizia adesso che riguarda la viabilità in A4, 700 metri di New Jersey a notte per completare. L'intervento di modifica la viabilità nel tratto Latisana-San Giorgio di Nogaro, indispensabile per consentire la realizzazione della terza corsia sull'A4. Ogni notte, da oggi a giovedì 18 maggio, escluse quelle fra il sabato e la domenica, e fra la domenica e il lunedì, saranno chiuse le corsie di sorpasso in prossimità dei lavori, in entrambe le direzioni di marcia e sempre in A4, a cominciare dall'ora 24 di venerdì fino alle 16 di domenica 7 maggio, nel tratto San Stino di Livenza-Portoglaro, è stato attivato un cantiere per il ripristino dell'asfalto. Per permettere la movimentazione dei mezzi in sicurezza, sarà chiuso il tratto in direzione Trieste e istituito il doppio senso di marcia in direzione Venezia. Torniamo adesso a Vivaro, ai microfoni di Lauro Nicodemo, il sindaco del Paese Candido, il quale parla di politica che non affronta le problematiche dei agricoltori. Sentiamo l'intervista. Siamo con il sindaco Mauro Candido di Vivaro, in provincia di Pordenone. Oggi, qui nel suo comune, un importante convegno alla presenza della professoressa Elena Cataneo, senatrice anche nominata dal presidente napolitano per meriti di carattere scientifico. Un importante convegno nel suo comune, rapporto tra l'agricoltura e la ricerca. Nel suo intervento di saluto alle autorità, lei sindaco ha chiesto con forza la necessità di incominciare ad ascoltare la base. Non è più possibile che in settori così importanti e delicati le scelte siano solo di carattere, di vertice. Buongiorno. In un momento di difficoltà e di crisi come quello che stiamo attraversando, l'agricoltura, anche nelle nostre realtà, torna ad essere centrale. Nei piccoli comuni come i nostri ci sono molte aziende agricole, anche di dimensione medio-piccola, che soffrono. Soffrono perché, purtroppo, a livello nazionale, le politiche condotte in questi anni su questi settori non hanno tenuto spesso in considerazione il parere della base. L'incontro di oggi è finalizzato soprattutto a trasmettere il parere della base ai nostri interlocutori, nella fattispecie alla senatrice Avita Cattaneo, che ci onora della sua presenza. Ma in sala sono anche partecipi numerosi scienziati, studiosi e ricercatori del mondo agricolo, che potranno quindi portare anche le retrodurre di chi ora sul campo a chi di dovere. Cercava di raggiungere l'Italia con documenti falsi. A scoprire il fatto la polizia di frontiera di Trarvisio che durante una normale attività di controllo sul treno internazionale EN234 ha sorpreso un cittadino ganese che viaggiava con carta d'identità e permesso di soggiorno falsi. I documenti esibiti hanno subito insospettito gli agenti che hanno preferito effettuare ulteriori accertamenti. Così l'uomo è stato accompagnato al settore di polizia frontiera dove è emerso che, benché fossero ben fatti, i documenti non erano originali. Il cittadino ganese, o è di 20 anni, è stato arrestato per il possesso e l'uso di documentazione falsa valida per l'Espadio che prevede una reclusione da 1 a 4 anni. Adesso andiamo a Pordenone, nord-est colleziona, ottava mostra mercato di collezionismo e hobby che ritorna alla fiera di Pordenone sabato e domenica all'interno del padiglione centrale del quartiere fieristico, con un focus particolare sul collezionismo militare. Saranno circa 100 gli espositori che presenteranno in fiera i pezzi migliori delle loro collezioni di oggettistica militare, modellismo, wargame, filatelia, numismatica, cartoline, figurine, libri, stampe, manifesti e collezionismo vario. Uno spazio particolare sarà riservato agli stand istituzionali dei diversi corpi delle forze armate, carabiniere e polizia di Stato, guardia di finanza, brigata corazzata a rete, aeronautica militare, croce rossa e delle associazioni d'arma, presenti con manichini, equipaggiamenti, uniformi e materiale storico. Paradiso dei collezionisti, di cimeli militari e dei appassionati di numismatica e filateria. Visitare Nord-Est colleziona significa immergersi all'interno di un articolato mercatino che tocca tutti i settori della passione per il collezionismo, con una particolare attenzione al mondo militare, al wargame e al modellismo. E dopo questa notizia, gentili e spettatori, finisce il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.